Partitella in famiglia, porte chiuse oggi per l'Atalanta nel quartiere generale di Zingonia. La squadra sino alla vigilia della gara casalinga di sabato contro il Parma ha deciso di allenarsi lontano dagli occhi tifosi e curiosi per cercare di trovare al massimo la concentrazione utile a superare il momento delicato a livello dei risultati. Stendardo è squalificato e non sarà dunque convocato, possibile invece l'inserimento di Lucchini al fianco di Manfredini per comporre il duo centrale. Biondini migliora poi visibilmente giorno dopo giorno ma rimane ancora in dubbio. I prossimi due giorni saranno decisivi per capire se potrà essere convocato. Nel frattempo Galgo Schelotto, che evidentemente non ha digerito il K.O. di Bologna, ha voluto rigiocare quella partita, stavolta non sul campo ma comodamente seduto dalla poltrona di casa con il suo videogame FIFA 2013. Ezequiel ha poi postato su YouTube un breve video che lo ritrae mentre prova il suo avatar, riuscendo, almeno sul proprio televisore, ad andare pure in gol. Grazie per la visione!